Gioia mia, sei diventata nuova creatura e ti senti vestita di Cristo, questo significa che non è da piacere, ti senti vestita di Cristo, questa testa bianca sia un segno della tua nuova divina, aiutata nel lavoro e travesse il mio peccato, portala senza macchia per la vita e per la vita, amma e l'amma. Biscemente la croce di Cristo, il Papa, il Ceno della Luce, il Ceno Pasquale e il Cristo del Ceno del Pianca. A voi, signori, madrina e padrino, vi abbiate questo centro pasquale fiamma che dovete sempre alimentare, a piacere una che la vostra bambina, illuminando la Cristo del Pianca, viva sempre con il Pianca della Luce e per scegliere l'anno della fede, vada incontro al Signore che è con tutti i santi del Pianca di Ceno, amma e l'amma. Potete saldare con te? Grazie. Grazie.